Bella ragazzi, qui Bluefire con Ares. Ciao Ares. Ciao Ares. Bella. Ciao Ares. Bella. Ciao Ares. Ah, ciao Ares. Bella. A proposito, siamo su Minecraft Minigame, siamo su One in the Chamber. Partiamo. Eccoti, eccoti, eccoti. Girati, girati. Hai uno che ti spara. Oh, cecchinato. Ringrazio. Grandissimo, grandissimo. Ti ho salvato le spalle. Proviamo a correre, tecnica di quello che corre. Vai, vai, vai. Concentrati nel correre soprattutto. Secondo me è una tattica vincente. Vai, vediamo se riusciamo a fare qualche cosa. Tanto è tipo autunno, vedo foglie gialle. Alberi colorati, alberi colorati ovunque. Sembra tipo, è presente la strada per andare da Cappuccetto Rosso? Sì. E voglio tipo tutto il bosco stregato. Tutto colorato, stregato. Non voglio morire. È bello sto Minigame. Sì, ci sta, è carino. E no, eh. Voglio salire sull'albero. Sali. Si può. Ma com'è che? Cioè, non sto riuscendo a fare manco una kid. Ma sei, una l'hai fatta. Sì, una. Una tu, una io. Siamo proprio in fondo. No. Io ho una vita. Sì, l'ho ucciso, che culo. Se a me si è bene, mi sta che mi tocca stare camperato da qualche parte e aspettare che vengano loro da me. No. No, 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 no. Non morire, non morire. Tanto mi ha ucciso un altro. Sì, cos'è sto pene enorme? Sali. Io ho una vita. Ti contenerai? Guarda la redstone. Due. Vai, vai, epic kill finale. Epic final kill. Forse non era il momento adatto. Riproviamo? Ma certo. Al prossimo round. Ares, Ares, si parte. Vai, vai, vai. Sei carico? Sì, sì, vai, vai, vai. Ah, ciao Ares. Ciao. Gna gna, ciao. Vai, cinque secondi. È una mappa con le ceste. Sto cactus è irreal. È un quattro. È un quattro o è un cactus? No, spawn kill non vale. Ma siete dei bambini grassi. Basta Nutella. Fuggi nel tunnel. No, sono crescita di nuovo. Che schifo? Dai, no. Fuggi nel tunnel. Non ci credo, non ci credo. Fuggi nel tunnel. È bloccato sto studio tunnel. Vabbè, torno alla hub. Vai. Tipo, non ho mai visto un admin. E ho visto sempre un sacco di gente con le hack in questi server. Forse si può segnalare sul forum. Se non c'è qualche... Aspetta che apro di chi sto. Aspetta un attimo che controllo un po' a vedere se c'è qualcosa che non va. Un gava. Perché se... se mi crashi di nuovo io mi stendo. Alli, alli... Questa volta abbiamo la forza con noi. Ciao. No, no, sono spawnato vicino a un tico. Sì, sono sotto il bastoncino di zucchero. C'è uno qua. Wow, morto. Questo è una specie di... di... ciuppa-ciuppa. Sei crashato. Ma io, forte delle mie convinzioni, uccisi questi due giocatori. In un sol colpo. E questo... terzo giocatore. Hey là! Ciao Ares! Mi odierà a morti. Mi sta chiamando. Ti è piaciuta la mia ultima kill? Perché è stata registrata. Questa me la paghi. Me la paghi assolutamente. Sì, così impari a crashare. Aspettati una vendetta. Sei stata la mia terza kill di fila. Io ne ho fatti... Sei. Sei. Hub. Yes! Hub! Prossimo round! Sei! Sei! Vai! In quale? In quale? In il... Nel quattro. Nel quattro. Nel quattro. Nel quattro. Non mi spardo. Nel quattro. Aaaaaaah! Rrrr! Rrrr! Uff! 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 Metti sensibilità al massimo e metti viaginare. Sì! Eee! Vai! No! Oh mio Dio. Ma capiremmo solo i fan del diavolo della Tasmania. Fuggite dopo gente. Entra nella fessora. No! Dai! Non è possibile. Già mi chiedono. Cos'è questa piattaforma? Salta! Non è successo niente. È un troll! Troll! Piattaforme inutili. Le odio. Ti odio come non so cosa. Le piattaforme che ti trollano. Gna 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 gna. Prendo la mira e sparo nel cerchio. Ma dai! Sì! Magari mi hai ucciso. Mi hai ucciso te mi hai ucciso. Non ci credo. Che schifo. Ma perché mi hai ucciso? Ho sprecato la mia freccia io. Sono qui a giocare al bersaglio. No no! Starman. Starman. Via! Dai! Non è possibile! Rubagli la freccia! Io non esisto in classifica. No 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 sono morto. Ma forse ho ucciso qualcuno. Ma forse ho solo una vita. Perché mi stanno... No mi hai cacciato Minecraft. Allora vai riproviamo. Sto scherzando! Io sono una vita non ho fatto neanche una kill. Cazzo! Io non sono in classifica. Io ho fatto una kill adesso. Sì! Una kill! Uccido sempre i miei inseguitori. Non so come sia possibile. Buttati! Vai vai vai! Perché dei giri di colpo li uccido. Sì! Nananan! Babam! Sì mi stanno rando! Sono una vita! Guarda quanta gente! E sono morto! E sono morto! E vai! Anche io! Siamo lì eh! Siamo lì eh! Nooo! Sponkill non vale! È come una kill! Sponkill non vale! Cosa c'è scritto? The Cake! Eeeh! Ah! Bello! E quando ti hai ancora? Uuuu! Ho shiftato! Mi sono salvato da un... Da un... Salto nel baratro! Come non detto! Comunque ho ancora una vita! Ancora un'epica vita che userò al massimo in questi 30 secondi epici! Fammarato! Sì un player! L'ultima! Sempre! Vai vai! In finale col coltellino! Sì! Ecco l'interato! Ho vinto! Nooo! Gli hanno provato la kill finale! E va bene ragazzi! Da Bluefire e Ares è tutto! E... Speriamo che questo video vi sia piaciuto! Lasciate un like, un mi piace, mettete un pollice in su come al solito! E bella ragazzi! 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 Grazie per la visione!